Padova e Belluno insieme per le montagne del Veneto e per l'ambiente. Due gli eventi organizzati, il 18 aprile a Monterrotto Terme, lo spettacolo Il Dono, il 18 maggio a Belluno, la partita del cuore. Non bisogna dimenticare e soprattutto bisogna fare, perché i Veneti sono gente che superano le difficoltà. Oggi abbiamo questa difficoltà, sono stati mesi di impegno, Padova con Belluno ha un legame indissolubile che nasce da quei giorni ma che vuole continuare ad essere vicina a quelle popolazioni in maniera concreta, in maniera strutturale per il superamento di quell'emergenza. E quindi queste due manifestazioni, quelle del 18 aprile a Monterrotto, con il concerto e poi con la partita degli amministratori locali, dei sindaci, assieme alla Nazionale Cantanti. Piccoli gesti per grandi opere e poi da Padova, città del volontariato, non può che partire un impegno molto forte per le popolazioni colpite del bellunese. Questa unione tra Padova e Belluno è nata così attraverso un evento che abbiamo organizzato con la Nazionale Italiana Sindaci e la Nazionale Italiana Cantanti il 18 di maggio e che verrà anticipata da questo evento a Monterrotto Terme, per il quale penso sarà una grande occasione anche per riflettere su alcuni aspetti ma anche per raccogliere dei fondi per questo nostro territorio che è stato così colpito. Mai come in questo caso ho trovato una grandissima sensibilità e ringrazio proprio tutte queste comunità che nel loro piccolo hanno messo delle piccole ma importantissime gocce che ci hanno fatto sentire vicini e uniti. Penso che questa regione che purtroppo in questi ultimi anni è stata colpita più volte da eventi tragici ha dimostrato ancora una volta che sa fare squadra e sa fare grande solidarietà. L'idea è nata grazie alla volontà in primis della Proloco di Abbano Terme di portare questo grande evento sul territorio delle Terme e dei Colli Ugani. Noi come Comune di Montegrotto Terme abbiamo accolto con grandissimo piacere questa proposta che lega non semplicemente un territorio, quello delle Terme e dei Colli, alla provincia di Belluno ma anche tante altre associazioni che fanno della solidarietà al loro punto forte. Penso alla Nazionale Cantanti perché ci sarà una partita sempre con risvolti benefici che verrà fatta abbiamo il Sindaco di Campodarsego che è in prima linea su questo fronte e soprattutto grazie anche all'intercessione del Presidente della provincia di Belluno a Montegrotto Terme avremo la possibilità di avere oltre a Paolo Vallesi grazie alla Nazionale Cantanti anche Mauro Corona per una serata al Palaberta all'insegna della solidarietà. Grazie a tutti